benvenuti e bentornati sul mio canale scusate l'assenza ma purtroppo tra il caldo e mille impegni non ho avuto tempo di fare video e neanche di andare a pescare anche perché avuto dei problemi sempre con queste continue piene e quelle volte che ci ho provato che ho avuto tempo per provarci è andata malissimo vabbè tralasciamo questo dettaglio vi invito ad iscrivervi al mio canale a lasciare un like se vi piace questo video di dire la vostra qua sotto nei commenti di seguirmi su instagram per rimanere sempre aggiornati e faccio questo video perché sono andato alla decathlon per comprare degli stampi di colombaccio per la preapertura e poi anche qualche uscita durante la stagione questo è uno stampo sempre proveniente da decathlon di qualche anno fa e questo è il nuovo stampo nuovo di pacca gli ho soltanto tolto il cartellino ma è come si può vedere è leggermente diverso un po più grigio ben fatto anche perché ci sono i pro e contro allora il pro che differenza dell'altro ha questa astina che mi permette di usarlo da campo posso metterlo in questa posizione o in quest'altra posizione molto utile come cosa e la cosa ben fatta è questo che posso riporre l'asta all'interno tra l'altro fa un piccolo scatto così non c'è pericolo che l'asta si stacchi questo qui è differenza invece all'anello che questo qua non ha e ha questo questa boccola dove andava infilato il paletto allora io questi non li ho quasi mai usati da campo ma li mettevo sui rami con l'asta utilizzando questi ganci che mi ero fatto in questa posizione allora siccome questi qua non li ho più trovati e faccio fatica a trovarli con l'attacco sotto mi sono detto perché non fare una modifica a questi della decathlon così poi posso comprarne degli altri nel frattempo appunto ne ho comprato uno solo per farvi vedere passo passo come farlo quindi andiamo a trasformare questo stampo da campo a a pianta allora vedendoli a confronto la posizione di dove andrà il la boccola come c'è in questo qua sarà questa dove è già predisposta per il posizionamento a terra e come si può vedere poi la posizione sarà questa appoggiato in un ramo la domanda che mi sono fatto a cui ho pensato come faccio a creargli una boccola per metterlo da ramo l'idea è questo questi dadi lunghi filettati poi se uno ha la possibilità di sfruttare qualsiasi altra cosa dove da una parte filettato va benissimo ognuno ha le proprie esigenze anche perché io questo è un il ganci che avevo fatto io un gancio vecchio quindi poi magari modificherò e magari se volete vedere come farli ditelo qua sotto nei commenti così poi farò un video dedicato su come fare questo tipo di gancio io li ho usati senza problemi e sono facilissimi da fare e si possono fare a un costo irrisorio quindi questo che filettato lo vado ad avvitare qua per vedere come continuate a guardare il video vi farò vedere come foro più o meno qua in modo tale da riuscire ad entrare con la chiave e andare a tenere il dado ok adesso allargo il foro proviamo a vedere se entra la chiave un po forzata entra e si ferma esattamente qua per evitare di perdere la vite dentro scotch sulla chiave vite rondella solo che la rondella non passa da qua quindi o si fa un foro più grande o si cambia rondella quindi optiamo per cambiare rondella ho recuperato ho recuperato una rondella un po più piccola anche perché questa qua poi la vado a mettere qua sopra allora prendo la vite con la rondella più piccola la inserisco qua nella chiave facendo un po di attenzione inserisco in questa maniera e facendo attenzione non fargli fare lo scatto non perderla la faccio sbucare qua a questo punto tengo la chiave così come si può vedere inserisco la rondella prendo l'esagono e avvito prendo un'altra chiave e fado tirare per avere una maggiore tenuta ok tolgo la chiave ed ecco fatto così in pochissimo tempo se uno vuole comprare 10 stampi 5 20 15 quello che vuole in pochissimo tempo può modificarli e renderli trasformabili da campo a da ramo addirittura avendogli fatto il foro qua si può utilizzare il paletto nel foro che gli ho fatto quindi è andata anche bene è arrivato il momento di provarli sul campo per vedere un confronto sia lo stampo da ramo da me già utilizzato che lo stampo da campo modificato in stampo da ramo con i relativi ganci ora vado a provare senza asto ovviamente ma in un ramo giusto da rendervi conto dell'efficacia del lavoro eseguito siccome si è visto poco vi faccio vedere i due stampi allora qua a sinistra c'è quello modificato e qua a destra c'è quello utilizzato già in precedenza se uno volesse fare un lavoro fatto bene al 100% io l'ho fatto di fretta in velocità anche perché è il primo quindi l'ho provato così per renderlo reale al 100% dove c'è il dado o lo si colora con una bomboletta di nero o di verde o di marrone o più rapidamente con la guaina termorestringente nera anche lì ha il colore proprio piacimento così da evitare i possibili riflessi che con le belle giornate di settembre possono insospettire gli animali come avete visto è una cosa fattibile in pochissimo tempo e se ne possono fare senza problemi senza avere chissà quali attrezzi dite la vostra qua sotto nei commenti e iscrivetevi attivate la campanellina così rimanete sempre aggiornati ciao a tutti al prossimo video